Vi do il benvenuto e ringrazio Sogei, Agid, Microsoft, i nostri partner in questa iniziativa. Abbiamo dato un titolo anche un po' altisolante, il primo hackathon per l'innovazione dei servizi della pubblica amministrazione. Format, due giorni. Entro le 15 di oggi 8 tavole di lavoro arriveranno con le 8 idee su cui lavorare. Entro le 19 di oggi gli 8 tavole di lavoro con i vari consulenti produrranno il business model canvas. Entro le 14 di domani i soliti 8 gruppi di lavoro questa volta presenteranno cosa? Un business model canvas ed un prototipo. Tutti insieme per scaricare a terra in 48 ore 8 prototipi su blockchain. Tasta caca, sono più a 17. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Una domanda e un'offerta che si trovano sullo stesso banco. L'obiettivo delle prossime tre ore è realizzare il codice software dell'applicazione, quindi impattano gli sviluppi. Ho uno sviluppo di un giovanissimo di 19 anni che è una bomba. Sarebbe molto interessante vedere applicata una tecnologia così innovativa in un settore tanto tradizionale. Applicazioni e idee che si sposano con le esigenze. università organizzare il centro. Risеюсь, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti.